Un momento storico per le due Coree e per il mondo intero. Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un e il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, si sono incontrati presso la Peace House di Panmunjong, una zona demilitarizzata al confine tra i due paesi. Una stretta di mano, cordiale, guardandosi negli occhi per la prima volta. E quando Kim ha superato il gradino che delimita il confine, è diventato il primo leader della Corea del Nord ad entrare in Corea del Sud dal 1953. L'ultimo incontro tra le due Coree avvenne nell'ottobre del 2007, simbolica l'immagine dei due leader che si prendono per mano. Il vertice tra i due capi di Stato si concentrerà sulla promessa denuclearizzazione di Pyongyang e su un possibile accordo di pace tra i due paesi. Sul libro degli ospiti Kim ha scritto così, una nuova storia inizia adesso. Grazie a tutti!